...importante, che ha iniziative importanti. Ma io credo che sia anche doveroso, no? Al termine di un ciclo come quello che ci ha portato a raggiungere questa medaglia di bronzo, passato attraverso una medaglia importantissima, decisiva, come questa che è stato l'argento europeo a fine nel 2011, è importante subito immaginare quello che sarà il futuro, il futuro è in prospettiva olimpica, indipendentemente da lunghezza dei contratti, il respiro debba essere quadriennale nelle cose che si progettano. Quindi ne ho parlato tanto con i vertici federali che della Lega, ho trovato grande entusiasmo. Io vorrei da questo inverno lanciare un progetto che riguarda dei ragazzi che saranno, come dire, in età congruente a Rio de Janeiro, quindi dei ragazzi che oggi hanno fra i 20, i 22, i 23 anni, che giocano nei nostri campionati di Serie 1 e di Serie 1, proponendo loro e al loro club quattro stagio che si svolgeranno naturalmente con grande rispetto degli impegni, questo è fondamentale per poter lavorare bene tutti, però c'è una lista di 30 atleti, c'è da 30 atleti che non sono mai stati convocati con la Nazionale Senioros e con i quali vorrei cominciare un percorso che chissà dove porterà, ma naturalmente mi piace immaginare che questi atleti possano avere un faro puntato e che anche i loro club sappiano che c'è un investimento in questo senso su questi atleti. Ringrazio anche la preparazione olimpica, particolarmente parte di questi stagio si svolgeranno proprio qui all'acqua cetosa, a Foglia, dove ci sono i centri di alcuni preparazione olimpica. Possiamo andare a rianimare qualche dirigente? Stefano, lei ce ne è collassato, no? No, ripeto, ci sarà grande rispetto come c'è sempre stato, reciprocamente, sia nei confronti del club che del nazionale. E la seconda cosa mi piacerebbe, questo forse sarà un po' più complicato per i calendari, ma mi piacerebbe ritornare a proporre un momento di confronto con tutti i tecnici, i miei colleghi di Serie 1 e di Serie 2. Proporò una data a dicembre, ho fatto basso con tutto intanto, io non ho mai fidato con nessuno. No, credo che ci sono delle cose che sono più importanti, naturalmente anche dei rapporti personali, quindi credo che in prospettiva, dallo sviluppo e della crescita di questa nazionale e del nostro campionato sia intelligente trovarsi e confrontarsi su dei temi comuni che riguardano chi poi è questi ragazzi neanche vogliono essere tutti i giorni.